Il 22 agosto è un momento importante per la comunità parrocchiale di Varco Notarercole perché si festeggia il Cuore Immacolato di Maria. Siamo in compagnia di Don Carmine Tropiano, parroco di Varco Notarercole. Dicevo è un momento importante, un momento religioso molto sentito dalla comunità di Varco. Già da anni che viene celebrata questa festa in onore appunto della Madonna del Cuore Immacolato di Maria e c'è una partecipazione da parte di tutti perché come ha detto la Madonna veramente richiama al suo cuore tante persone, molte persone. Quali sono i momenti tra il 21 e il 22 in onore del Cuore Immacolato di Maria? Allora ci sono i momenti quelli liturgici, quelli delle varie celebrazioni eucaristiche. Poi ci sono i momenti della processione dove tutti insieme accompagniamo la Madonna. Prima la partecipazione alla Santa Messa che è importante per la crescita umana e spirituale e poi anche con le varie processioni cerchiamo di accompagnare la Madonna attraverso la preghiera. Il 19 agosto ci sarà la celebrazione per le autorità civili e militari, anche un momento questo importante perché riscopriamo attraverso coloro che sono impegnati nel servizio sociale, riscopriamo attraverso di loro anche il vivere in comunione per il bene comune. Varco Notarercole di Sassano è in festa, è in festa da questa sera perché inizia la settima sagra del vitello locale organizzata dall'Associazione Cuore Immacolato di Maria. Siamo qui con il presidente dell'Associazione Pasquale Quagliano, con un socio Mimo Petrizzo. Pasquale, questa sera iniziano i festeggiamenti per Varco. Sì, dopo tanti sacrifici, tante lotte stiamo iniziando questa sera, questa lunga settimana di festa. Praticamente iniziamo stasera con la sacra del vitello, come appunto dicevi tu, la settima edizione della sacra del vitello locale. Rinnovo praticamente quello che è il menù che facciamo ogni anno, ovviamente rigorosamente carne di vitello locale. Facciamo la bistecca, lo spezzatino che è buonissimo, come tutti quanti i prodotti che noi utilizziamo e soprattutto prodotti locali, a partire dalla carne, il vino, le mozzarella, i contorni, tutti i prodotti della nostra zona. Per cui vi esorto a tutti quanti a venire numerosi a degustare i nostri prodotti. Da stasera al 20 facciamo la sacra, poi il 21 ci sarà uno spettacolo favoloso per bambini e per adulti e vi parlo delle fontane danzanti, con tanta acqua, luci e fuochi pirotecnici. Poi il 22 ci sarà un evento particolare, unico in Italia, con il grande concerto con Clementino e Enzo Avitabile. Mimo, avete scelto davvero una grande accoppiata per il 22 agosto per i festeggiamenti in onore del Cuore Immacolato di Maria? Abbiamo voluto quest'anno pensare un po' più ai giovani, come è giusto che sia, anche perché gli anni passano un po' per tutti ed è giusto che le nuove generazioni siano presenti. L'abbiamo fatto soprattutto perché quest'anno volevamo fare le cose in grande, volevamo divertirci e far divertire ragazzi, adulti, di tutta l'età. Quindi con la musica di Avitabile, di Clementino, quest'anno dovremmo, penso, accontentare un po' tutti. Naturalmente noi vogliamo chiedere anche un po', ne approfittiamo, a chi magari è nelle vicinanze o magari abita nei pressi di Varco, Silla. Quel giorno sarà un po' un giorno un po' particolare e quindi nessuno ci voglia male, se magari si vedranno strade chiuse già dal pomeriggio perché ci aspettiamo, ripeto, tanta gente. Quindi è giusto che noi, la piazza è questa, Varco è questa, ci dobbiamo un attimo organizzare, quindi ci sarà un po' di controllo da questo punto di vista. Quindi vi aspettiamo tutti il 21 e 22 agosto.